Ora c'è un pensiero da parte della parrocchia nei confronti di Don Paolo, quindi lo chiamiamo qua sotto il palco per consegnargli questo pensiero. In un mondo ideale dove le famiglie sono felici, formate da un papà maschio e da una mamma femmina e due simpatici bambini che giocano e si sporcano nel fango. Le facciamo questo piccolo dono che sicuramente la ispirerà per le prossime prediche e le ricorderà la nostra comunità. Grazie Don. Adesso vi lasciamo un video, questo è il momento strappalacrime. Ebbene sì, sono i più forti e riusciranno a trattenere le lacrime. Vedremo delle foto che ripercorreranno questi ultimi nove anni. Buona visione, ancora una volta. Grazie. 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 Grazie.